Abbiamo preparato dei biscotti diversi. Ci benderemo gli occhi e dovremo indovinare che biscotto abbiamo assaggiato. Chi avrà fatto più errori dovrà indossare il più brutto dei maglioni natalizi. Si comincia! Ok, secondo round. Questo ha una bella consistenza e questi sono cristalli di zucchero. Il mio credo abbia un disegnino sopra. Sento delle increspature. Io non vedo l'ora di assaggiarlo. È uno dei miei preferiti! Al burro di arachidi! È salato! Credo di averci messo il sale al posto dello zucchero, ma non l'ho fatto apposta, lo giuro. Non importa, è un errore che si fa facilmente. Chelsea! Chelsea! Ciao!